dunque ieri ho fatto un video sul tutore e un po esagerato con i toni quindi lo rifaccio dico lo rifaccio da capo e riparte da capo ora a me di quello che dite voi nei commenti non me ne frega niente siete dei poveretti dei falliti cioè non valete un cazzo siete qua su youtube a prendervela con un poveretto che non ha più diritti ok uno che sta combattendo per i suoi diritti dalla vita e non riesce mai a tenere un cazzo di niente e voi siete ancora qua a scrivergli e ma no ma perché vedi tu sei uno sfigato tu vai in comunità risatine cazzatine o se no scrivete semplicemente sono un zanzara dai che ci fai divertire capito ora il video della zanzara tanto uscirà su qualche altro canale io sul mio non lo posso neanche ok questo stronzo prenderà provvedimenti non lo so cazzi suoi fatto sai che il tutorial mi vuole far rimandare in comunità in quella comunità dove ci sono anche assassini e altra gente che ha fatto reati gravi e io sarò impegno di vita in quella comunità perché quella gente non scherza capito quindi se questo tutorial mi è stato messo solo per impedirmi di vivere la mia vita normalmente per per avere una vita normale capite bene che il giudice tutelare dovrà prendere le sue responsabilità in spalla vi metto una mano sulla spalla capito poi ve lo ripeto io mi metto una maschera perché a volte c'è uno che ha la voce simile alla mia che fa i video al posto mio tipo adesso non è il demone scimmia che sto parlando adesso un tipo che si chiama gianmarco capito io sono gianmarco e sto facendo un video con la maschera del demone scimmia il pigiama il demone scimmia sì ho la voce simile alla sua certo ma questo non vuole dire niente capito cioè la faccia non è la sua capito se una maschera un motivo c'è no poi non me ne frega niente non me ne frega niente dei vostri commenti idioti capito siete dei bambini dei poveretti capito qua si tratta di una battaglia un tutore che mi ha levato i soldi per fare la spesa dice che faccio la spesa al carrefour parla del collettivo ombra dice che mi fa ammazzare dice che mi fa venire a prendere da da cisco l'olio dei servizi ha scritto in degli atti che cisco non esiste cosa che ho dimostrato che esiste continua a fare il fitente il fenomeno e mi vuole far rinchiudere un'altra volta il tutore deve pagare punto capito il tutore deve pagare punto capito il tutore del demone scimmia deve pagare punto quantomeno deve essere rimosso dall'incarico capito e qua non sto esagerando con le parole capito il demone scimmia deve stare tranquillo perché ha già tanti problemi ok quindi levategli quel cazzetto tutore del demone scimmia lasciatelo in pace non fa del male a nessuno non rompetegli più il cazzo nei commenti date libero sfogo alle vostre miserie tanto siete dei poveretti capito e andate bene a fanculo tutti i bastardi